La foto su social Michelle Hunziker ironizza con Tommaso Trussardi I due hanno passato anche questa volta un dolce weekend insieme, dopo che praticamente hanno trascorso l'intera estate fino ad oggi l'uno accanto all'altro. La coppia sembrerebbe infatti non conoscere crisi, e stamattina Michelle Hunziker ha voluto mostrare ai suoi fan una foto ironica che la ritraeva proprio in compagnia del suo bel Trussardi. I due con un sorriso smagliante sono apparsi infatti sotto due corna appese al muro, e ironicamente l'ex conduttrice distriscia la notizia scritta nella didascalia dello scatto che ciò serviva per esorcizzare le corna. I followers della coppia hanno di gran lunga apprezzato la loro ironia, tanto che nei commenti molti hanno scritto quanto fossero divertenti e che comunque era impossibile per Tommaso Trussardi tradire Michelle, poiché non solo era una bellissima donna, ma anche una mamma magnifica e soprattutto una moglie da imitare. Michelle Hunziker scherza con Trussardi, la foto entusiasma i fan. Michelle Hunziker si sta godendo appieno la sua vacanza in compagnia dell'amore della sua vita Tommaso Trussardi, con il quale sembrerebbe volere anche un altro figlio. La bella conduttrice aveva infatti postato sempre sul suo Instagram una foto in cui era apparsa giovanissima insieme alla piccola Aurora, avuta dalla sua relazione con Eros Ramazzotti. Sotto il tenero scatto a bordo piscina, la Hunziker aveva affermato che in quel dolce visino vedeva quello di tutte le sue figlie e di tutti quelli e di tutte quelle che verranno. La frase non lasciava dubbi, ci saranno altri parvoli in casa Trussardi? Nel frattempo i due sembrano innamoratissimi come il primo giorno, e hanno appassionato tutti i loro fan attraverso numerose foto delle loro romantiche vacanze, insomma, il prossimo passo di Michelle Hunziker e Trussardi è veramente quello di allargare la loro famiglia. Ciao!